Giannola Bulfoni Nonino, Cavaliere del Lavoro e premio Fondazione Bellisario, insieme al marito Benito Nonino, decide di trasformare la grappa, fino ad allora considerata un distillato grezzo, con l'idea vincente, selezionare cioè le bucce di un singolo vitigno, creando la prima grappa crum mono vitigno Piccolit e riuscendo così a conseguire l'incredibile passaggio di status della grappa alla pari delle più nobili acquaviti del mondo. La grappa Nonino quest'anno festeggia 120 anni di produzione e commercializzazione di acquaviti di eccellenza. La famiglia Nonino è anche un'eccellenza nella promozione della cultura. Istituisce fin dal 1984 il premio di letteratura Nonino con la giuria presieduta dal premio Nobel per la letteratura Servidia Naipol. Nel giugno 2010 nasce in onore di Claudio Abbado il coro Manos Blancas, che coinvolge bambini diversamente abili per avvicinarli alla musica. I Nonino sono i veri ambasciatori della grappa di qualità nel mondo. Hanno ricevuto importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali, tra cui il prestigioso premio Leonardo per la qualità assoluta, la ricerca e innovazione. Quest'anno la rivoluzione Nonino è uno dei Casos Studio scelti dalla London School of Economics e sempre quest'anno la Nonino è Spirit Entrepreneur of the Year. Prima volta che tale premio viene assegnato ad un'azienda di grappa.